Gli Ivox sono delle strane creature, metà nanetti e metà orsacchiotti che vivono nella luna di Endor. Un giorno vi precipita un'astronave con a bordo una coppia con due figli. Un mostro rapisce i genitori, e i due fratellini, vengono soccorsi dai simpatici e coraggiosi Ivox. Saranno loro ad aiutarli, a ritrovare i genitori e a salvarli.